ciao ciao e bentornati sul nostro canale questo che vi proponiamo il terzo video della rubrica intitolata una giornata con questi video servono a presentare vecchi e nuovi amici della compagnia perché la rievocazione storica dà la possibilità di stringere rapporti di amicizia e aggregazione tra le persone è un momento di condivisione e di supporto reciproco ed è questa una delle cose che noi amiamo del nostro lavoro oggi saremo in compagnia con i ragazzi dell'associazione Gruppo Tamburi Città di Gerratana giù nell'info posto troverete tutti i link dei ragazzi tenaste la tastra, iscrivetevi al nostro canale, lasciate un bel mi piace che lo aiuta tanto a crescere e non dimenticare di attivare la campanella qui sotto per non perdere i prossimi video buona visione ciao a tutti io sono Giussi e noi facciamo parte del gruppo Tamburi Città di Gerratana parlateci in breve della storia di Gerratana allora Gerratana non è sempre stata Gerratana, in antichità si chiamava Terra Vecchia Terra Vecchia sorgeva nei pressi di Montelauro e a causa del terremoto del 1693 che ha colpito tutta la Val di Noto è stata distrutta da quel momento gli abitanti hanno pensato di trasferirsi e si sono trasferiti su una collina chiamata Poiorendisi in cui appunto è nata la Gerratana che conosciamo oggi questa Gerratana è stata diciamo per molto tempo governata dai Settimo dai Settimo rimangono erudere in un castello che è quello appunto in cui noi ambientiamo il nostro Memufest raccontateci la storia del gruppo Associazione Gruppo Tamburi Città di Gerratana il nostro gruppo nasce nel 2010 ma solo nel 2012 nasce la vera e propria associazione quindi nasce ufficialmente il gruppo diciamo che nel corso del tempo ha avuto tanti cambiamenti e ha avuto una bella crescita anche per il numero di componenti che ho ad oggi arriviamo proprio a 38 elementi di cui sei trombe egiziane in tutto questo cammino diciamo che non solo è cresciuto a livello musicale il gruppo ma soprattutto a livello anche sociale cioè per l'importanza sociale che ha oggi per noi e per i giovani che entrano in questo gruppo infatti non andiamo avanti solamente suonando i tamburi ma siamo una vera e propria famiglia cosa ti ha spinto a creare un evento nel vostro paese e quali difficoltà avete incontrato? quali difficoltà immagino che qualsiasi gruppo che ha la voglia diciamo di mettersi in gioco e di correre dei rischi incontra tantissime difficoltà quindi diciamo tralasciamo un po' quest'ambito soprattutto le difficoltà se proprio dobbiamo trovarne una sono quelle finanziarie perché il nostro evento che appunto è a vita da 4 anni è appunto il MemoFest nasce con i nostri risordini cioè noi lo autofinanziamo grazie comunque a chi ci fa da sponsor o ci aiuta sono i nostri sacrifici, le nostre suonate, le nostre sudate soprattutto che lo finanziano l'idea è nata una delle tante sere che passavamo insieme e diciamo che abbiamo sentito l'esigenza di metterci in gioco e di mostrare ciò che eravamo capaci di fare di arricchire il nostro paese e quindi c'è anche l'aspetto della valorizzazione del paese in cui viviamo però soprattutto era proprio una voglia che avevamo di fare qualcosa nel nostro piccolo anche per gli altri in molti se lo chiedono potreste spiegare tecnicamente cosa fate quando vi si rompe una bacchetta o battente durante un'esibizione? non facciamo nulla abbiamo proprio qua negli stivali in questo momento ce l'ho una bacchetta di riserva che nell'eventualità tiriamo fuori e se non dovesse essere disponibile ce le passiamo fra di noi magari da fila a fila vi è mai capitato di colpire qualcuno del pubblico con le bacchette? uno spettatore che guarda l'esibizione? sì, tantissime volte io in particolare sono famosa per questo e anche perché mi volano spesso e volentieri le persone le bacchette finiscono addosso alle persone non solo in faccia ma è capitato anche che mi sia tirato qualche specchietto di qualche macchina quante volte e per quanto tempo vi allenate? allora noi durante l'inverno ci alleniamo due volte a settimana per una media di un'ora e mezza a due orette poi durante l'estate quando le suonate diventano più frequenti arriviamo anche a quattro volte a settimana quale o quali sono i momenti che più vi piacciono durante le manifestazioni in cui avete partecipato? allora direi che a noi piacciono tutti i momenti però soprattutto quando finiamo di suonare ci ritroviamo magari a mangiare o a bere qualcosa insieme o a parlare con gli altri ragazzi che magari conosciamo e con gli altri gruppi questo penso sia il momento più bello perché fa famiglia e fa comunità è risaputo che quando si va in trasferta può succedere di tutto spesso si ride e ci si diverte avete un aneddoto divertente da raccontare sul gesto tra il gruppo? di aneddoti penso che ne abbiamo anche tanti perché ogni volta che possiamo suonare succede qualche cosa se proprio ne vogliamo ricordare qualcuno basti pensare a una volta in cui un membro del gruppo ha dimenticato la divisa in paese a Gioradana quindi noi siamo arrivati e lui non ha potuto suonare una volta è capitato durante un'uscita a Malta che un ragazzo sempre del gruppo giustamente ha sbattuto il naso contro la vetrata del balcone dell'albergo convinta che fosse aperta e invece era chiusa si è quasi rotto il naso poi ogni giorno ne succedono tante si cade a terra, si gioca, si ride salutate i vostri e i nostri followers invitatele a seguirci ciao a tutti, grazie per l'attenzione noi vi salutiamo seguite la compagnia del Vespro e seguite il gruppo da fuori città di Gioradana grazie è la vostra pagina che è luce è più carino che sei spuntato tu da dietro grazie 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 per la visione!